Signora, questo lampadario è due anni che è spento, abbiamo chiamato a tutti, ma si risparmia sulla luce secondo me, una strada completamente al buio, non erano delle luci che lasciamo a noi accesi, loro risparmiano, però le tasse le paghiamo. Quindi questo è via Pio, 11esimo tra il 20 e il 30. Quindi cari commissari, guardate qua la strada al buio, intervenite.